Ischia è uno dei posti più belli al mondo e in un paesaggio meraviglioso tra natura e opere d'arte ha sede l'istituto europeo del restauro e ha sede nel posto forse più magico e suggestivo dell'isola. L'istituto si trova al Castello Aragonese che è un posto nel mondo ma allo stesso tempo fuori dal mondo. Noi la definiamo una piccola svizzera. L'istituto ha i suoi laboratori qui al Castello Aragonese dove naturalmente vengono restaurate le opere d'arte, in particolar modo le opere a sopporto ligno. Attualmente abbiamo anche attivi due cantieri di restauro da un paio d'anni che sono in una cripta dove ci sono affreschi di scuola giottesca e nella cattedrale del castello. La collaborazione con Bosch che dura quasi da un ventennio rappresenta un punto di riferimento per l'istituto. Bosch ci rifornisce degli elettrotensili più innovativi e questo per noi è veramente fondamentale. Grazie alle loro tecnologie, a quello che in questi anni abbiamo potuto fare insieme, siamo cresciuti e soprattutto Bosch ci ha dato l'opportunità di eseguire i nostri lavori in maniera più rapida, più veloce grazie alla precisione dei loro utensili. Il nostro staff è composto da giovani restauratori che hanno la caratteristica di lavorare con molta passione e soprattutto molto cuore. Io e il mio team di restauratori lavoriamo alla cattedrale al castello Aragonese di Ischia. Il nostro lavoro consiste nel restauro e nella messa in sicurezza degli stucchi delle superfici architettoniche originali. In questo lavoro noi mettiamo l'anima perché questa è la nostra vita. è la nostra vita.